Florence. 2 ottobre 2023 Una decisione del Consiglio Comunale che era previsto. Ma che ha anche causato polemiche e dibattiti a Firenze. Green light. Per maggioranza. Dal Consiglio Comunale di Firenze alla legge che include la fermata nel centro storico della creazione di New Air BNB. La risoluzione. Illustrata in classe dal sindaco Dario Nardella. Ha approvato i voti a favore del Partito Democratico e della Nardella Elenco. E all'interno della risoluzione c'è una misura che riguarda le tasse fiscali. In effetti. L'Imu è anche previsto nella seconda casa. Per tre anni. Favore di coloro che rinunceranno a brevi contratti di locazione e ritornano quelli normali. Il Consigliere per l'Ambiente Palazzo Vecchio Andrea Giorgio definito voto opposto i vi. Incomprensibile e. Rispondendo ai consiglieri del gruppo Matteo Renzi. Ha affermato che la risoluzione è politica perché regolare il rapporto tra mercato e diritto alla. Casa è una delle più grandi questioni politiche oggi per difendere i diritti costituzionali troppo a. Lungo a sinistra senza protezione. Il governo una città bisogno politica e visione. Secondo Giorgio è un atto coraggioso e necessario. Per gli IDI. Attraverso i consiglieri Alessandro Draghi e Jacopo Cellai. È una risoluzione sbagliata. Fuori dal tempo e discriminatorie. Abaldo Bocci del gruppo Centro ha sottolineato che l'atto è accento grave in. Ritardo. Dato che i grandi gruppi hanno già realizzato tutte le speculazioni possibili.